Kate Middleton incintissima alla messa con William d'Inghilterra e la regina Elisabetta, prima del parto la duchessa fa il conto alla rovescia e saluta tutti, la rivedremo con il terzo royal baby tale braccia Kate Middleton è davvero ormai agli sgoccioli della sua terza gravidanza. La duchessa incintissima non ha rinunciato alla tradizionale messa di Pasqua con la regina Elisabetta II, accanto a William d'Inghilterra, e con tanti altri royals. Mary e Meghan hanno dato forfè, con i principini dai nonni materni Kate Middleton tiene ben al caldo il pancione sotto un capotto color cioccolato nero, firmato Katherine Walker che abbina con poscette decolle e giambito rossi chiare, e ha uno dei suoi copricapo preferiti, in marrone. Con William e i principini George e Charlotte, la duchessa ha trascorso le festività pasquali nella tenuta dei Middleton nel Berkshire. Il forfè di Harry e Meghan ha la messa alla ST. George's Chapel a Windsor, proprio dove il 19 maggio sarà celebrato l'attesissimo, e blindatissimo, royal wedding, Harry e Meghan non si fanno vedere. La coppia, che sta ultimando i preparativi per il gran giorno, ha preferito stare lontana dai riflettori. Mentre Kate, alla fine della funzione religiosa, sale sull'auto che la riporta assieme al marito dai figli e saluta tutti, prima del parto. Arrivedremo con il terzo royal baby tra le braccia. Barra verticale barra verticale punto 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 punto. Sous-titrage Société Radio-Canada